Pneumatici, materiale edile ferroso, rottami, elettrodomestici e anche i resti di una roulotte. L'hanno scoperto i baschi verdi della compagnia pronto impiego della Guardia di Finanza in un'area adibita a deposito di rifiuti a tessera, poi sequestrata. In un terreno di 10.000 metri quadri erano stati stoccati rifiuti speciali e potenzialmente dannosi per l'ambiente e successivi riscontri sulle banche dati hanno permesso di risalire al proprietario del fondo, che senza alcun contratto l'aveva concesso in uso a un'altra persona. È stata effettuata un'approfondita classificazione dei rifiuti, anche per verificare la possibilità di infiltrazioni di sostanze inquinanti nel terreno con conseguente contaminazione delle falde acquifere e l'area recintata. La persona che utilizzava il terreno è stata denunciata per violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti e la vicenda segnalata al Comune per l'avvio delle procedure di bonifica. Il responsabile può essere punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con un'ammenda che va da 2.600 a 26.000 euro. La sua posizione potrebbe aggravarsi se la discarica fosse stata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi.